Pronti per cominciare un nuovo appuntamento con i social del gruppo Identità e Democrazia, Delegazione Lega al Parlamento Europeo, per far raccontare quella che è l'attività della Lega in Europa. Noi siamo a Strasburgo, io sono Cristiano Bosco e con me c'è l'eurodeputato della Lega, Alessandro Panza. Ciao Cristiano, ben trovato, ben solo un saluto a tutti. Come dicevo, siamo a Strasburgo e siamo qui per parlare prevalentemente di un tema che ha occupato molto le cronache europee nelle ultime settimane, ovvero la conferenza sul futuro dell'Europa. Alessandro Panza era uno dei componenti indicati dalla Lega per fare parte di questa conferenza, assieme a Mara Bizzotto e Susanna Ceccardi. Che cosa parliamo quando parliamo di questa conferenza? Che cos'è per far capire ai cittadini a casa? Ma innanzitutto magari se ne fosse parlato così diffusamente sui media nazionali della conferenza sul futuro dell'Europa. La conferenza sul futuro dell'Europa è stata un'azione di propaganda fatta dal Parlamento, fatta da Guy Verostad per cercare di dare una parvenza di copertura popolare di alcune decisioni che sono semplicemente le decisioni che si continuano a prendere dentro il palazzo, vedasi la rimozione dell'unanimità in seno al Consiglio, che è una cosa che riguarda gli addetti ai lavori, ma sicuramente i cittadini che ci seguono da casa non gliene frega nulla, piuttosto che le liste europee e transnazionali, cosa che ci ha tenuto impegnato per un sacco di tempo, ma è un altro argomento di cui i cittadini che ci seguono da casa non gliene frega assolutamente nulla. È stata talmente un bidone, è stata talmente un fallimento la conferenza sul futuro dell'Europa che il Parlamento europeo ha dovuto spendere dei soldi, e ci piacerebbe un giorno sapere quanti, per comprare degli spazi sulle emittenti locali, per obbligare gli emittenti locali a parlare della conferenza sul futuro dell'Europa, invitando i cittadini coinvolti piuttosto che i parlamentari coinvolti. Quindi se io devo andare a spendere dei soldi per promuovere un prodotto, evidentemente quel prodotto non è così bello e così apprezzato dai cittadini. Quindi già questo dà la dimensione di come questa grande conferenza sul futuro dell'Europa, questa grande iniziativa che dovrebbe dare il via alla revisione dei trattati, a ripensare l'architettura dell'Unione europea, in realtà si ha una grande presa in giro. Ecco, una voce fortemente critica, chiaramente, per far capire meglio anche chi ci segue. Questa conferenza fu lanciata come idea inizialmente dal Presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Le istanze di cambiamento, cioè il desiderio di cambiare le istituzioni europee e l'Unione europea, questa Europa che diciamo sempre non funziona, la lega per prima a sostenerlo, eppure questa è stata un'occasione che non è stata sfruttata al meglio. Cambiare tutto perché nulla cambi, verrebbe da dire. La conferenza nasceva sotto un auspicio, forse abbiamo avuto anche noi per un momento l'illusione di dire aspettiamo un attimo che forse l'Europa ha capito che non tutto sta funzionando a dovere e non dimentichiamo che l'iniziativa di far partire questa conferenza arrivava dopo la seconda grande pandemia del Covid dove, ammettiamolo, l'Unione europea ha segnato notevolmente il passo, ha dimostrato tutte le sue difficoltà. L'architettura europea ha dovuto sospendere i suoi pilastri fondamentali, dalla limitazione alla libera circolazione, la sospensione del patto di stabilità, la rimozione del divieto degli aiuti di Stato, tutte cose su cui si basa fortemente questa istituzione sono stati messi da parte. Allora da qui l'idea che forse qualcosa non stava funzionando, che forse i trattati sul quale si basa questa istituzione non sono così aggiornati all'epoca e odierna. Abbiamo visto la lentezza sul quale si è arrivati all'introduzione del Green Pass prima che serviva solo per i trasporti, poi è stato utilizzato per fare qualsiasi cosa, piuttosto che alla lentezza sul quale si è arrivati alla campagna vaccinale. La campagna vaccinale certo è stata un successo, ma mica grazie all'Unione europea. La campagna vaccinale è stata un successo grazie agli Stati membri e soprattutto alle regioni che hanno fatto della campagna vaccinale una missione che hanno portato a termine in maniera egregia. Quindi siamo visti in questa situazione dicendo bene, abbiamo capito che c'è un problema, ma lavoriamo per risolvere questi problemi. Però ci è voluto veramente poco perché poi prevalesse la realtà sull'illusione di vedere un approccio che era finalizzato solo ed esclusivamente a autoassolversi dalle colpe. Quindi l'Unione europea non ha colpe. L'Unione europea va bene così, anzi ci dicono dalle risoluzioni che vengono votate in Parlamento, dalle conclusioni di questa conferenza sul futuro dell'Europa che ci vuole ancora più Europa. Un'istituzione che ha dimostrato tutte le sue lacune, tutte le sue fragilità deve essere riformata, ma deve essere riformata cambiando completamente rotta, rimettendo al centro i cittadini, i popoli, le nazioni che la compongono per cercare di essere e far fede a quel motto che è dell'Unione europea, ma che viene sistematicamente abbandonato, che è uniti nella diversità. Perché qua si cerca di essere uniti nell'uguaglianza, nell'omologazione e non uniti nella diversità, perché la diversità vuol dire che ognuno a casa sua deve essere orgoglioso e felice delle proprie peculiarità, delle proprie caratteristiche e anche dei propri difetti, perché no? Però non essere amalgamato in una pappa omogenea che deve essere uguale dalla Svezia a Cipro, perché questa non vuol dire essere uniti nella diversità, questo vuol dire omologazione e l'omologazione, abbiamo visto i disastri che ha fatto. Ecco, prima hai menzionato tra le proposte che sono emerse in questo anno di lavori, perché avete lavorato oltre un anno qui a Strasburgo, la proposta delle liste transnazionali, se ne è occupato anche il tuo collega Antonio Maria Rinaldi nella Commissione Affari Costituzionali e per spiegarlo sarebbe una lista di 28 candidati, provenienti da ogni paese europeo, che dovrebbero per esempio, un candidato finlandese dovrebbe conoscere i problemi del cittadino elettore italiano? Sì, ma non solo. Al netto che la realtà dei fatti è che c'è la presunzione da parte di qualcuno che probabilmente non verrebbe più votato neanche a casa sua, che finire in questa lista che verrebbe eletta sostanzialmente con una quota proporzionale, essendo messo in una parte buona della lista, pur non riuscendo a prendere i voti a casa sua, magari con i voti di qualcun altro potrebbe essere eletto, potrebbe essere magari anche il caso del Presidente Verostad, visto che è stato uno dei grandi sostenitori di questa iniziativa, però vediamo come andrà a finire. Sicuramente l'obiettivo è quello di allontanare con questa iniziativa ancora di più il rapporto che c'è tra chi, come me, ha l'onore e l'onere di rappresentare i cittadini che lo hanno eletto, ma questo vale per me, ma vale per tutti gli altri 704 membri di questo Parlamento, di allontanare il parlamentare dal proprio elettorato. Perché? Perché se noi aumentiamo il divario che c'è tra istituzione e rappresentante, lì si può inserire la tecnocrazia europea, si può inserire la burocrazia europea e fare quello che vuole continuare a fare quello che le pare piace. Quindi è chiaro ed evidente che questa è una manovra che serve semplicemente per cercare di ulteriormente aumentare questo spazio e togliere rappresentatività. Guardate, noi in Italia abbiamo dei collegi che sono enormi, il collegio Nord-Ovest dal quale io provengo ha oltre 20 milioni di abitanti. Voi capite che io già nel mio piccolo, pur cercando di stare molto sul territorio, essere presente, cercare di parlare con gli amministratori locali, con i sindaci, con le imprese, con i cittadini, non ce la si fa perché è un territorio vastissimo. Ecco, voi immaginate di avere un rappresentante, un parlamentare eletto che rappresenta tutti i 500 e rotti milioni di cittadini europei. È un non senso perché rappresentare così tanta gente vuol dire non rappresentare di fatto nessuno. Ci avviamo alla conclusione, abbiamo detto giudizio negativo su quella che è stata la conferenza sul futuro dell'Europa, se dovessi dire in un tweet che cosa serve al futuro dell'Europa? Cambiare con concretezza rimettendo i cittadini al centro. Se posso permettermi una conclusione, il rammarico è per i cittadini che sono stati coinvolti. Lasciamo stare che sono stati coinvolti in maniera poco chiara, hanno fatto questa piattaforma dove ci si scriveva, dove è stata data poca pubblicità alla piattaforma rispetto ad esempio alla pubblicità che è stata fatta per la conferenza una volta avviata, quindi non dando proprio a tutti i cittadini europei le stesse chance di poter essere partecipi di questa iniziativa, però anche dai cittadini che hanno partecipato e ti dico in larga parte cittadini già molto orientati verso una visione molto europeista, ho visto molta disillusione, quindi un'iniziativa che oltre a non aver partorito nulla di concreto è riuscita anche nell'operazione di porre dubbi a chi è già un europeista convinto, quindi di mettere qualche tarlo a chi considera queste istituzioni intoccabili, perché hanno toccato con mano quanto invece queste istituzioni alla fine risultino lacunose, fumose e poco attente ai reali interessi dei cittadini, peccato, peccato davvero perché poteva essere una grande occasione di coinvolgimento del popolo per cercare di avvicinare la gente vera, la gente che sta nelle strade di fianco a noi giorni a un'istituzione che viene sempre vista più lontana, missione fallita, ancora più distanza rispetto a quella che c'era prima. Bene, io ringrazio Alessandro Panza, ringrazio tutti coloro che ci hanno seguito, l'appuntamento è sempre qui sui social del gruppo Identità e Democrazia, delegazione al Parlamento europeo.